A tutti voi buonasera dal Tg Max, in apertura la cronaca, riduzione in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Con queste accuse la mobile di Pescara ha arrestato sei nigeriani per costringere le ragazze a prostituirsi. I capi della banda le avrebbero tenute per mesi in stato di schiavitù, sottoponendole anche a Riti Voodoo per ottenere l'omertà delle vittime. Riti Voodoo era solo una delle tante minacce alle quali una decina di ragazze nigeriane tra i 20 e i 30 anni erano sottoposte continuamente per costringerle a prostituirsi. E' proprio grazie ai racconti di queste ragazze che una banda nigeriana è stata sgominata questa mattina dalla squadra mobile di Pescara nell'ambito di un'operazione diretta dalla procura distrettuale e coordinata dal Servizio Centrale Operativo di Roma. Tre uomini e due donne sono stati arrestati stamani con le accuse di riduzione in schiavitù finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il dirigente della squadra mobile di Pescara, Pierfrancesco Muriana. Un'organizzazione che si occupava di gestire tutta la filiera criminale dall'inizio fino alla fine nel senso che gestivano dalla fase del reclutamento a quella del viaggio fino alla destinazione finale che vedeva queste ragazze costrette a prostituirsi sulle vie di Pescara e soprattutto di Montesilvano. Secondo quanto ricostruito, le ragazze nigeriane erano costrette ad attraversare il deserto per poi giungere in Libia e da lì spostarsi in Italia anche a bordo dei barconi. Il viaggio, che costava ad ogni prostituta tra i 50 e i 60 mila euro, era favorito da documenti falsi che venivano sequestrati una volta entrati in Italia in modo da impedirne la fuga. Ma erano molti altri sistemi di minaccia utilizzati contro le giovani donne. Il V2 era uno dei metodi utilizzati da queste associazioni per vincolare le ragazze al rispetto dei patti imposti e alla restituzione di cifre esorbitanti che venivano richieste per ripagare le spese del viaggio. A questo si aggiungevano le minacce. Minacce a loro, minacce ai familiari, sì perché i familiari rimanevano in Nigeria quindi esposti ai pericoli della criminalità nigeriana e questo era assolutamente vincolante per le ragazze e determinava in loro una profonda paura. Omicidio manopello dalla finzione alla realtà pubblicato su YouTube un cortometraggio girato da Valentino Dinunzio, il giovane 27enne che domenica scorsa ha ucciso a coltellate la madre. Nel cortometraggio Dinunzio si finge un killer che sceglie le sue vittime a caso. Il cortometraggio, dichiarato il criminologo Francesco Bruno, avrebbe dovuto portare ad un maggiore approfondimento delle cure. Dovevo soddisfare il mio istinto ad uccidere. Quello che state vedendo è un cortometraggio intitolato La dodicesima vittima diretto e interpretato da Valentino Dinunzio, il giovane di 27 anni che domenica pomeriggio ha ucciso la madre Maria Teresa di Giamberardino colpendola con un coltello da cucina per ben cinque volte. Dieci minuti di girato, musica inquietante di sottofondo. Tra gli attori compaiono anche il padre e il cugino di Valentino. Dinunzio si presenta come un killer, sceglie tra i passanti la sua vittima, si introduce in casa sua e toglie dalla giacca un coltello da cucina. La stessa arma scelta da Valentino nella realtà, per togliere la vita a sua madre. Nella finzione però Valentino non riesce ad uccidere, anzi sarà proprio la vittima prescelta a rivelarsi come un killer e ad uccidere con un'ascia il protagonista del corto. Insomma, un amatoriale film dell'orrore, una finzione che diventa una drammatica realtà. E nella realtà, mentre il PM Salvatore Campochiaro, titolare dell'inchiesta, dovrebbe affidare all'anatomopatologo Sciarra l'esame sul corpo di Maria Teresa di Giamberardino, si attende l'interrogatorio di convalida dell'arresto. Il legale di Valentino Dinunzio, l'avvocato Isidoro Malandra, dovrebbe puntare la sua linea difensiva sulla richiesta di riconoscimento dell'incapacità di intendere del suo assistito al momento del tragico delitto. sarà disposta a una perizia per verificare le condizioni mentali di Valentino Dinunzio. Un operario di 56 anni è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara dopo essere precipitato dal piano strada a quello sottostante dei garage di un edificio. Il fatto si è verificato all'interno di un cantiere di Lea Francavilla al mare, sul posto per gli accertamenti i carabinieri e il personale della medicina del lavoro. Parco della Costa Tiatina dopo il comune di Torino di Sangro, anche quello di Rocca San Giovanni dice no al parco. Ultimi giorni per presentare la perimetrazione relativa al parco della Costa Tiatina e scongiurare l'arrivo del commissario che avrà a quel punto pieni poteri per decidere in tutta autonomia le sorti del territorio. Dopo il comune di Torino di Sangro, dove una parte dei cittadini si è detta contraria all'attuazione del parco nazionale attraverso una sorta di referendum, anche il comune di Rocca San Giovanni prende posizione e lo fa ufficialmente. Il consiglio comunale infatti ha fornito parere non favorevole all'istituzione sui propri territori di un parco di rango nazionale. Allibiti consiglieri di minoranza che denunciano il consiglio ha approvato una delibera vergognosa dopo una discussione infinita durata ore. La preoccupazione della maggioranza è stata incentrata sull'utilità del carrozzone che dovrà gestire il parco. Nel documento approvato si legge infatti che appare a dir poco incoerente che in un periodo storico politico, qual è l'attuale, si voglia accogliere con favore l'istituzione di un ulteriorente sovracomunale fonte certa di ulteriori spese e di aggravi burocratici per i cittadini. Ma il no della maggioranza è arrivato anche a causa dell'inevitabile introduzione sul territorio di viveti generali e graduati non compatibili con un territorio fortemente antropizzato e caratterizzato dalla presenza di numerose attività produttive di varia natura. I consiglieri di minoranza però danno un'altra lettura della decisione. Abbiamo il timore, sostengono che dietro questa scelerata decisione ci sia la volontà di avviare un altro sviluppo, quello che consuma il suolo a colpi di cemento e distrugge l'intero territorio e mettono i cittadini in guardia. In gioco c'è lo sviluppo di un intero territorio e la crescita economica e sociale del nostro paese. Al momento di approvare la delibera la minoranza ha minacciato di abbandonare l'aula intimando all'amministrazione di non procedere con l'approvazione perché erano stati riscontrati degli elementi di illegittimità. In concreto la delibera non è stata votata, concludono i consiglieri d'opposizione, ma assume comunque un rilevante elemento politico molto negativo che inciderà pesantemente sul nostro futuro e penalizzerà le prossime generazioni. Cliente coraggioso sventa rapine e mette in fuga i tre malviventi. Accaduto questa mattina poco prima delle 12 nell'ufficio postale di via Tirino nel quartiere San Donato a Pescara dove all'improvviso tre persone con volto coperto da passamontagna hanno fatto irruzioni all'interno dell'ufficio intimando alle cassiere di consegnare soldi. Il cliente è molto robusto, si è impadronito di una sbarra in ferro usata per delimitare le file delle persone in attesa e ha iniziato ad aggredire due rapinatori mettendoli in fuga. Il terzo malvivente armato di taglierino ha a sua volta tentato di aggredire il cliente che nella colluttazione è stato ferito di striscia ad un braccio, poi la fuga senza bottino. Il fatto è accaduto davanti ad altri clienti che hanno poi allertato il 113. I tre rapinatori sono fuggiti in auto in direzione di San Giovanni Teatino sul caso, indaga la squadra mobile. Per la prima volta in Abruzzo l'ASL Lanciano Vasto Chieti ospiterà un team di radiologi dedicato alla senologia. Un progetto innovativo che mira la costituzione di un centro ad altissima specializzazione, punto di riferimento per tutta la regione. Novità assoluta per la sanità abruzzese. È in arrivo presso l'ASL Lanciano Vasto Chieti un team di radiologi dedicato esclusivamente alla senologia. L'equipe medica, composta da specialisti già impegnati nel campo della senologia, negli ospedali dell'ASL, opererà principalmente a Ortona, dove si procederà alla lettura delle immagini e alla rifertazione, mentre gli esami continueranno a essere effettuati negli ospedali ai quali le donne fanno riferimento abitualmente. Ad annunciare la costituzione del team questa mattina, il manager dell'ASL 2, Francesco Zavattaro. Andremo a presentare la nostra idea, il nostro progetto di costituire una unità dedicata proprio per la diagnosi radiologica, quindi per la mammografia, in cui andranno ad operare in maniera esclusiva e dedicata 4 o 5 radiologi che hanno già una storia e quindi un'esperienza in questo campo alle spalle, ma che in questo modo potranno ancora più specializzarsi e quindi garantire una qualità diagnostica sempre maggiore. La novità verrà presentata ufficialmente nel corso di un convegno dal titolo Rinnovamento dei processi assistenziali di ricerca in ambito senologico, in programma presso l'auditorium del nuovo rettorato dell'Università di Chieti il 29 settembre. All'incontro prenderanno parte, tra gli altri, il professor Paolo Veronesi, la senatrice Laura Bianconi e in collegamento video il professor Umberto Veronesi. L'idea è stata quella di riunire persone scientificamente qualificate e sicuramente il professor Veronesi, l'ex ministro della Sanità, insomma notoriamente esperto in tutto ciò che è materia di senologia, ha proprio il significato appunto di favorire un confronto dei nostri operatori con chi in Italia da sempre si è occupato in maniera all'altissimo livello di questi argomenti e di come quindi affrontare il trattamento di questa patologia che ahimè colpisce un numero sempre importante e significativo di donne. Seminario finale del progetto Azioni di Sistema a sostegno degli insegnanti promosso dal patto Sangro Aventino e finanziato dalla provincia di Chieti. Con il seminario sui percorsi di aggiornamento rivolte agli insegnanti per assisterli nell'utilizzo delle nuove tecnologie nella quotidianità didattica si è concluso il progetto Azioni di Sistema promosso dal patto Sangro Aventino e finanziato dalla provincia di Chieti. Il progetto si è sviluppato attraverso una serie di attività, progetti di ricercazione, percorsi di aggiornamento e di progettazione partecipata rivolte agli insegnanti e dirigenti, puntando alla realizzazione di una comunità di apprendimento in grado di sviluppare le competenze e rafforzare l'integrazione tra la scuola e il contesto locale. La sfida e la competizione globale impongono infatti continui cambiamenti adattamenti alle nuove necessità, per questo lo sviluppo delle competenze e la propensione alla collaborazione sono diventati ingredienti imprescindibili da parte di un territorio e da parte degli enti, delle imprese e delle scuole che vi operano per mantenere i livelli di sviluppo e di crescita adeguati. Il progetto ha coinvolto 27 scuole di ogni ordine e grado operanti nell'area del Sangro Aventino, quattro direzioni didattiche, 11 istituti comprensivi, due istituti secondari di primo grado e 10 istituti secondari di secondo grado. L'aeroporto di Preturo ospiterà la prima fiera internazionale dell'aviazione civile e militare. L'obiettivo è di trasformarlo nella base nazionale di approdo del turismo aeronautico. Si chiama Italy Aviation Day Expo ed è la prima fiera internazionale dell'aviazione civile e militare in programma all'aeroporto dei parchi d'Abruzzo di Preturo dal 30 settembre al 2 ottobre. Un appuntamento importante per il futuro dell'aeroporto al quale parteciperanno oltre all'Aquila le province di Ascoli, Fermo, Ferrara e Sernia e la Repubblica di San Marino. L'obiettivo è fare di l'Aquila la base nazionale di approdo del turismo aeronautico. Inoltre entro la fine dell'anno proprio a Preturo sarà creata la prima scuola di paracadutismo militare nazionale per il centro Italia. Ad illustrare l'iniziativa è il direttore dell'aeroporto Cesare Rossi. L'Europa apre le porte all'Aquila facendo per la prima volta una fiera di costruttori aeronautici. Vengono da tutto il mondo, siamo orgogliosissimi di aver ottenuto questo risultato e stiamo dimostrando che l'aeroporto dell'Aquila sta partendo con quello che può fare. Noi non aspettiamo che arrivino i 747, che arrivino i cargo. Noi operiamo sull'aeroporto dell'Aquila con le strutture che l'aeroporto possiede già. Quindi? Quindi abbiamo, le dico l'esempio più semplice, la settimana scorsa ho portato la mia scuola di paracadutismo dalle Marche. In un giorno abbiamo fatto 250 lanci, 28 tandem, a significare che l'Aquila risponde magnificamente alle istanze che vengono poste in maniera concreta. All'iniziativa si è subito affiancata la Regione Abruzzo, l'assessore trasporti Gian Donato Morra. L'aeroporto di Preturo si rilancia fortemente con questa iniziativa. So che ci sono in partnership, sono interessati a questo aeroporto, tanto saranno qui presenti in questi giorni vari rappresentanti, ad esempio la provincia di Ascoli, la provincia di Fermo, la provincia di Sernia. Quindi c'è tutto un movimento di interesse attorno a questo aeroporto. Come Regione abbiamo voluto fare questa conferenza qui per dargli il giusto rilievo e nello stesso tempo confermare la nostra vicinanza e, quanto lo sapete, anche nell'imminente sblocco di FAS che dovrebbe avvenire già dal prossimo Cipe, c'è anche una previsione economica per l'aeroporto di Preturo. Siamo alla pagina sportiva per il calcio. Clima di grande fiducia in casa Virtus, nonostante la penalizzazione di un punto. Il difensore Mammarella avanti e senza drammi. Ancora in tre a punteggio pieno, la Cremonese, partita da Menosechi, ha sbancato Piacenza. Il Lanciano che doma a tempo scaduto il Barletta, il Pergo Crema che regola il giovane Alto Adige. Perde il treno, il Trapani travolto dalla Carrarese, si sblocca l'Andria e si rilancia il Siracusa. Il tutto a danno delle ambiziose Triestina e Spezia. La Tina e Porto Gruaro infieriscono sul deficitario avvio di Bassano e Feralpi Salò. Nel posticipo il Frosinone, prossimo avversario dei Rossoneri, infligge tre reti al Prato, 3-1 il finale. Sempre più Virtus, insomma, con l'amarezza di un punto di penalizzazione che proprio non ci voleva. Frutto del rapporto con l'attaccante Morante, più croce che delizia di tre anni tormentati, il Lanciano ci ha rimesso, insomma, tempo e denaro con la commissione disciplinare che adesso ha fatto scivolare i Rossoneri in seconda posizione per aver pagato in ritardo il giocatore che preferì a suo tempo la tribuna e la Berretti ad altre piazze di categorie, ma in uno stipendio sontuoso. Inoltrato il ricorso si spera in un ripensamento che farà finalmente giustizia. La squadra? Sentite Mammarella. Un gruppo tutto nuovo, allenatore nuovo, però sta andando tutto bene, stiamo lavorando bene, credo che questa sia la strada giusta da seguire. Peccato per il punticino che è stato sottratto. Eh vabbè, fa parte delle situazioni del calcio, logicamente sono cose societarie, dispiace perché comunque è un punto sudato, però ci può anche dare forza per riprendercene forse già da domenica prossima qualcuno in più. Ecco, attenzione, sul percorso c'è il Frosinone che è una squadra costruita per far bene, benissimo. Sì, ieri ho visto la partita, sicuramente a livello organico il Frosinone è una di quelle che lotterà per un posto nei play-off, però dalla nostra parte abbiamo quelle armi che abbiamo dimostrato domenica e che se le riusciamo a riportare anche al Frosinone sarò sicuro che sarà dura anche per loro. Si è svolto a Nocciano in onore del Santissimo Cuore di Gesù l'undicesimo Paglio degli Asini. Lo speciale sarà trasmesso questa sera su Telemax al termine del Tg. Il Paglio ha visto competere sei asini in un percorso di circa 200 metri in contrada collina a Nocciano. Nel corso della manifestazione sono state disputate anche le gare di ruzzola. Ed è tutto, vi lascio al Meteo Max, vi auguro buon proseguimento con i programmi di Telemax. Arrivederci. Grazie.